Buongiorno, un caro saluto da Francesco Samani. In questo video approfondiremo tra le varie metodologie didattiche il circle time. Allora, perché il circle time e perché si parla anche di metodologie didattiche? Allora abbiamo classi che sono sempre più eterogenee, abbiamo studenti di cui abbiamo esigenze, una crescita di esigenze, quindi esigenze diversificate, articolate e quindi, forse, probabilmente, un'unica soluzione per tutti gli studenti, che per tanti anni è stata la metodologia didattica, diciamo, la didattica frontale attraverso la lavagna, potrebbe non essere sufficiente. Bene, se ti piacciono questi video legati alla scuola, legati all'insegnamento, all'istruzione, ti invito a mettere un bel like e iscriverti al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornato su qualsiasi argomento. Ringrazio tutti coloro che creano commenti molto interessanti, costruttivi, a volte anche magari di confronto, quindi non solo tutti quelli che mi ringraziano, che sono veramente tanti, ma anche coloro che magari mi danno dei suggerimenti. Io ringrazio veramente tutti. Allora, volendo dare un riferimento storico, nasce nei primi anni 70, nel 1970, ma non nasce in Italia, però il Circle Time viene utilizzato con ampio successo anche nelle scuole italiane e nasce, abbiamo detto la data, l'impronta è quella della psicologia umanistica, anche perché è bello poi creare delle categorie relative alle varie metodologie didattiche. Lo scopo, adesso in breve cerchiamo di dire qualche cosa, è migliorare sicuramente la comunicazione, quindi migliorare anche le abilità comunicative, creare gruppo, quindi il gruppo deve avere uno stesso obiettivo, uno scopo comune e quindi aumenta la vicinanza emotiva e spesso risolve, quindi diminuiscono anche i conflitti. Il Circle Time deriva dall'inglese parola cerchio, insomma, e quindi il metodo qual è? Gli alunni, il studente, si siedono, sedersi in cerchio, insieme a un insegnante, insieme all'insegnante che funge da coordinatore, che fa parte quindi del cerchio, nel quale quindi si ha un momento di parità, sono tutti in cerchio, dove tutti riescono a vedersi in faccia, tutti riescono ad esprimere le proprie opinioni, tutti riescono ad esprimere le proprie emozioni in maniera libera e a questo punto allora se sono tutti uguali, tutti alla pari, l'insegnante che cosa deve fare? Abbiamo detto l'insegnante riveste un ruolo di coordinatore, quindi deve mediare, proporre argomenti, direzionare la conversazione, cioè non è che si può parlare di tutto e di niente e quindi poi tutto diventa poco importante, bisogna porsi dei target, degli obiettivi, dei percorsi da seguire. Come abbiamo appena detto, in questa modalità si facilita, eccolo qui, la comunicazione tra pari, tra tutti quelli che sono seduti in cerchio, al fine di approfondire la conoscenza reciproca, quindi del gruppo, e al fine di quindi creare integrazione all'interno della classe di valorizzare le competenze dei singoli, ma anche del gruppo. L'unione fa la forza. Abbiamo anche detto che il circle time riduce i conflitti, quindi è sia uno strumento di prevenzione, che di soluzione dei conflitti all'interno della classe e permette anche all'insegnante di conoscere meglio i propri studenti, quindi relativamente anche alla vicinanza emotiva, in questa situazione l'insegnante riesce a conoscere meglio quindi la classe e le dinamiche presenti all'interno del gruppo classe. Abbiamo parlato di abilità, abbiamo parlato di valorizzare le competenze perché sicuramente all'interno del circle time gli alunni sono stimolati, quindi vi è una motivazione, ad acquisire nuove conoscenze nel confronto, nel momento in cui vengono valorizzate le competenze del singolo e quindi il confronto e quindi la nuove, l'opportunità di apprendere anche dagli altri, viene sicuramente stimolata e motivata l'acquisizione della conoscenza e anche della consapevolezza sociali, quindi che ruolo si riveste in un gruppo, ma anche una consapevolezza delle proprie emozioni di quelli altrui perché ci si confronta e quindi tutto questo in maniera sinergica, come abbiamo detto, va a migliorare le relazioni sociali sia con i coetanei che con gli adulti. Quindi si lavora a livello dell'empatia perché i studenti imparano a riconoscere e a gestire le proprie emozioni. Si parla di strategia di gruppo che quindi migliora il rapporto all'interno della classe, quindi ha riveste anche un ruolo sociale perché crea un clima di serenità e di rispetto reciproco, dove tutti hanno il diritto di comunicare i propri pensieri. aiuta anche a comprendere il rispetto delle regole perché si impara a conversare insieme, quindi quando parla uno gli altri ascoltano, si impara a superare magari la paura del giudizio degli altri e quindi ha da avere il reciproco, il coraggio quindi, che poi potrebbe anche migliorare l'autostima dello studente, di esprimere le proprie opinioni, mettendoci la faccia ad alta voce, esponendosi e sicuramente l'insegnante rivestendo un ruolo di mediatore deve aiutare lo studente anche a migliorare la comunicazione alla sintesi. Sicuramente uno studente deve riuscire in maniera appropriata a trasformare i propri pensieri in una frase che sia comprensibile, accessibile a tutti, al fine insomma di creare questo rapporto in cui abbiamo tanti studenti, potrei, giusto per far capire che comunque l'insegnante c'è sempre, disegnare l'insegnante in rosso e vi è una comunicazione, un dialogo circolare ma anche un dialogo trasversale in cui questo dialogo è reciproco con una doppia freccia in cui l'insegnante comprende lo studente, quindi entrano dei feedback e restituisce delle indicazioni come mediatore, quindi in questa figura riusciamo anche a dare una rappresentazione visiva del circle time. In ultima istanza, ma non è ultima come importanza quello che dico, l'età, perché mi chiedete ma Francesco è per la scuola primaria, per la scuola dell'infanzia, per la scuola secondaria? Allora, il circle time sicuramente è stato sperimentato ed ha avuto successo sicuramente in tutte quelle classi che hanno studenti tra i 4 e i 14 anni. Questo non significa che in una classe di 16 anni non vada bene il circle time, ma probabilmente le amicizie tra studenti, il confronto probabilmente già è nato e al massimo, insomma, anche considerando questa situazione di Covid, potrebbe magari non essere indispensabile una disposizione logistica al centro, ma tranquillamente possiamo pensare di lasciare i nostri studenti sedersi nei monobanchi, nei banchi con un solo posto, però ovviamente anche qui vi è la possibilità rispetto tra gli studenti e con l'insegnante ovviamente di interagire in maniera proficua. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona continuazione di giornata, un caro saluto da Francesco Samani.